Buonasera, siamo qui di nuovo in spiaggia, dopo una giornata di lavoro, siamo di qua in compagnia di amici di lavoro con un amico Nunzio e il figlio, c'è anche lì Antonio Spiaro, figlio di Anna E niente ragazzi, abbiamo la 02 canne, la nuviera standard numero 3, eccola qua, 12-12 pochino Siamo appena calati del sole, ancora non abbiamo fatto il tramonto, per poter vedere, c'è la bad bass di TrioCompact La prima di lanci sulla TrioCompact, una bella mormora di taglia grossa, è una radozza discreta, sui quattro etti circa A dopo Ragazzi, dopo la mormora e la radozza, un'altra mormora ancora, guardate come è bella di grossa taglia E ancora un'altra sotto alla mata ancora, eccola qua, appena tirata fuori sulla TrioCompact Quattro pesci, tutti e quattro sulla TrioCompact Sono belle mormore di taglia grossa, cosa la slamiamo pure Bella cattivella, eccola qua Ora la slamiamo, guardate come sono belle queste mormore Ecco qua, e sono quattro, una pescata fette a fuggire A dopo ragazzi Salve amici, siamo ancora qui in spiaggia, con le panne piazzate Abbiamo acceso anche un po' di fuoco, che l'inizio lo sta accendendo Vediamo le prede fatte da me Una bella mormora è una Due bei mormoroni Una bella radozza Un'altra bella mormora Sono quattro, cinque e sei mormora Sono cinque mormore onorata Ecco, Nunzio Nunzio, a chi vogliamo salutare? A Massimo con nonno fulore Ciao Massimino Ciao Vabbè amici, sono ancora qui, stiamo recuperando Mi recupero in diretto, si facciamo compa Mi si deve chiudire La bella bassa Ancora una mormora, e come mi è voluto vedere Ragazzi, lo recupero in diretto con la nuviera Standard numero tre Sì, è andata una mangiata spettacolare. Per ora siamo a 8 catture, 7 murmure e 1 rata. Quindi va a vedere la vetta della canna? In guarda. Il pesce si deve ripensare, guarda a me. La montatura è sempre monoma. Sempre una murmure. Allora, vedete. Ciao. Ragazzi, ancora più in pesca. Passiamo ancora con la piatta terretta. Siamo a 11.25. Il pesce ha fatto una bella pescata. Sono 10 pezzi. 9 murmure e 1 rata. Un pescata con la trio Bad Bats. Abbiamo fatto quasi tutte le prete con la Bad Bats. Trio Compact. E qualche altro pesce sulla nuvina. A dopo. Ragazzi, la pescata è finita. Ecco qua. 9 murmure e 1 rata. Quasi tutte le catture sono state fatte sulla trio Compact. E due murmure fatte sulla nuvina standard numero 10. Siiii. Alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.